Presidente, un'emozione fantastica ritrovare l'Italia in finale, ma in più in generale un europeo, sia maschile e femminile, che ha coinvolto tutto il nostro territorio, tutto il nostro movimento, evento fin qui riuscitissimo. Non potevamo finire meglio questo europeo, è stato l'europeo dei nostri tifosi, delle nostre società, è stato l'europeo uno dei più belli organizzati. Credo che rimarrà nella mente di tutti, perché le nostre nazionali hanno girato per tutto il territorio e siamo stati felicissimi di aver fatto sold out dappertutto con l'Italia. Stato di salute della nostra pallavolo a livello nazionale? Non dovrei dirlo io, a me sembra buono, credo che gli ascolti tv e soprattutto la risposta che c'è stata al pubblico è stata eccezionale. Credo più di questo, non possiamo pretendere. Grazie mille, buon lavoro.